Pluribol, un nome leggendario per gli appassionati di imballaggio, una prova di stile per il Bombi Van del ventunesimo secolo. Impermeabile, facilmente lavabile, non ha bisogno di stiratura, come capo d'abbigliamento non ha praticamente rivali. Negli accessori il Pluribol esprime a pieno la sua versatilità. Utilissimo in ascensore come riserva d'aria in caso di blocco o durante il sonno per allontanare le zanzare con una lieve berezza artificiale. Naturalmente ergonomico vi consentirà rigeneranti momenti di relax su qualsiasi tipo di terreno.